Buonasera, quando ero un ragazzino e si iniziavano ad ascoltare le prime stazioni radio, la radio che trasmetteva la musica in Italia, in quel periodo era solamente la RAI, la radio e televisione degli italiani che alternava genere folk ad un genere italiano, qualche brano inglese, qualche brano di musica classica, era una radio fatta più che altro di parole per tenere compagnia alle persone, alle persone che stavano a casa, alle massaie, perché ancora la donna era la regina della casa. Ben presto, agli inizi degli anni 70, quindi dopo la rivoluzione 68 e le scorribande proletarie, che con il senno di poi abbiamo capito fungere a quello che doveva essere il periodo industriale della ricostruzione dell'Europa, della ricostruzione del mondo, perché venivamo dalla seconda guerra mondiale, una guerra organizzata dai soliti banchieri per fare cassetto, per fare cassa. Come ho già detto anche l'altro giorno, la guerra fa pillo perché quando c'è la guerra si vendono le armi, ma la cosa della quale io volevo sottolineare e far sì che l'attenzione possa poi dirigersi verso quello che io intendo di dire è che in tutto quello che è accaduto e se facciamo un breve riassunto ci rendiamo conto che l'Europa dal periodo di Napoleone, perché c'è stato il Medioevo, si sono fatti la guerra un po' i balordi che erano soprannominati signori che vivevano nei castelli, il castello a Suorzesco, a Milano, quindi gli Sforza, i Medici, i Gonzaga, gli Este, quelli erano i signori. Però non voglio parlare neanche di quello, io voglio parlare proprio della sfrontatezza, quindi dalla faccia di culo, scusate ma è un rafforzativo che hanno quelle persone che si sono arricchite facendo lavorare gli altri, quelle persone che hanno incassato centinaia di migliaia di miliardi delle vecchie lire senza far nulla. Se qualcuno conosce il tedesco capirà di chi sto parlando, ma non è, quella famiglia non è la sola, perché poi quella famiglia ha continuato la saga con l'unione tra i più ricchi d'Italia e gli altri che fanno parte di questa banda di saccheggiatori, perché io non riesco a definirli diversamente. Persone che portano via all'Italia centinaia di migliaia di miliardi e far sì che ci sia un governo che gli dia tutti questi soldi, mi viene da essere invidioso, sono invidioso, è vero, però dico anche un'altra cosa, che sarei stato capace anch'io di fare industria come l'hanno fatta, ma non sono soli, cioè ci sono anche gli altri. Gli altri che cosa sono gli altri? Gli altri non sono nient'altro che la riconversione, io sto parlando della storia dell'Italia, io non sono un complottista e vi spiego anche perché dopo, la riconversione del feudalesimo in una poi visione più moderna di una società che ha un logorio, quello della vita moderna e la pubblicità di Ernesto Calindri che stava in mezzo al traffico di Milano bevendosi il suo cinar. D'altro canto anche Celentano parlava nelle sue canzoni della nevrosi che era di moda perché la società consumistica sopravvanzava e però tuttavia la gente ancora si divertiva e ballava anche al ritmo del GGG che noi abbiamo conosciuto poco, almeno io che sono già abbastanza anziano. Quello che viene da pensare è che c'è un gruppo di facinorosi che continua in perterrito a saccheggiare il mondo, quindi a uccidere perché organizza le guerre, quindi a imporre delle leggi a chi si dà da fare, ai lavoratori, questi non fanno leggi per i lazzaroni perché i lazzaroni li mantengono, così aumenta il debito pubblico e le persone che lavorano le massacrano, quindi gli portano via tutto quello che le persone riescono ad incassare dedicandosi 24 ore al giorno alla loro attività. Tuttavia ci sono però delle aziende che hanno accettato dei compromessi purché si lasci un po' di margine e se io mi sono accorto che la maggior parte delle persone, la maggior parte delle aziende, la maggior parte dei professionisti appena può si porta a casa quello che guadagna ed è legittimo farlo, anche perché io sono contro le tasse, io sono per un altro regime, io sono per un'altra visione di vita che è la stessa visione che loro ormai sono obbligati a rispettare. Non dico che loro mi stanno copiando, ma dico che l'esigenza è quella e anche loro non possono fare a meno di adeguarsi. Perché? Perché siamo arrivati al punto di non ritorno. e qual è la causa maggiore? Non sono il primo che ha preso appunti su quello che accade, anche perché ci sono altre persone più anziane di me che sono più intelligenti e molto più attenti di me. E io ho ascoltato e letto quello che scrivono e quello che dicono. E in effetti non v'è altra spiegazione. E la spiegazione è che l'Italia, cioè l'Italia, il mondo, era chiuso in questa sfera atmo, cioè era chiuso nell'atmosfera e tutti i gas, tutte le sostanze che noi produciamo, incluse quelle inquinanti, che arrivano dai tubi di scappamento delle auto, dai camion, del riscaldamento, del riscaldamento delle stufe, termosifoni, riscaldamento di casa e dagli allevamenti intensivi degli animali. Quindi sono tutte materie, tutti i prodotti che vengono confezionati da questi parassiti perché hanno fatto anche le guerre. Quindi persone che si sono arricchite sfruttando di altri, organizzando guerre e parlando di pace, cioè Obama premio Nobel per la pace mentre aveva 14 guerre in atto. Quindi questo deve fare capire che io non sono un complottista. E non sono un complottista, adesso vi dico perché, perché se ci fosse qualcuno che trovasse l'antidoto alla guarigione immediata per tutte le malattie, la malattia quella che causa più decessi ogni anno è il cancro. Il cancro sono diversi ma la fattispecie della patologia è quella, nel senso che il corpo, quindi la persona, inizia a produrre cellule anomale dovute, tutto ciò dovuto all'intervento di agenti esterni che entrano dentro nel corpo e tu dici la faccia del cazzo, ci sei arrivato, hai scoperto l'acqua calda. Beh io vorrei non averla mai scoperta quest'acqua calda perché la vita è sacra, perché la vita è unica e perché ogni essere vivente, animali inclusi, alla faccia dei cacciatori che fanno sport con i fucili, hanno il diritto, quindi tutti hanno il diritto di santificare la vita che viene data e io spero che ci sia un evento, a parte Vera Strozenberg che ha copiato la ragazza canadese nel suo discorso, l'ha fatto uguale proprio per... Quello è stato l'incipit per il reset, quindi noi abbiamo l'atmosfera che è piena di gas pericolosi che potrebbero da un momento all'altro provocare una reazione chimica e scatenare le più grosse catastrofi e tragedie della storia, di quello che noi conosciamo, della storia dell'uomo e quindi hanno trovato un escamotage, cioè una malattia che dopo la conferenza stampa della Bayer BioNTech o IG Farben, che è il continuo di quello che veniva fatto come industria chimica in Germania, ma gli attori sono sempre gli stessi, magari hanno delle facce di merda diverse perché sono i figli dei test di cazzo che hanno ridotto l'umanità a un posto infelice dove, pieni di paura, si muore, e si vive male senza avere uno straccio di progetto per un futuro. Il futuro lo disegnano loro, loro che sono la causa del disastro, loro che sono la causa di quello che noi viviamo, purtroppo anch'io malamente, e spero che uno di questi bastardi criminali una mattina si svegli e faccia a quello che ho fatto io circa 35 anni fa. Siccome 35 anni fa io vivevo di notte e alzavo anche un po' il gomito, una mattina mi sono alzato e davanti allo specchio ho detto ma tu chi sei? E da quel giorno ho iniziato a fare dei ragionamenti diversi perché ero curioso, non l'avessi mai fatto. Forse è meglio vivere la vita, rimanere nell'ignoranza perché quando io li vedo per strada, quando li sento parlare, li invidio veramente perché non sapere forse è un vantaggio.